è arrivato un regalo di natale non non molto gradito per così dire insomma vero direi inaspettato purtroppo abbiamo avuto una diffida dalla corte dei conti in cui si evidenzia un disavanzo dal rendiconto del 2021 di 356 mila euro che dobbiamo ripianare entro tre anni ovviamente questo era inaspettato però è compito nostro rimborcarci le maniche e fare appunto un piano di rientro che ci consenta di ripianare la somma per intero questo ovviamente comporterà delle conseguenze nel senso che saremo costretti purtroppo a svolgere delle attività che mai avremmo voluto fare ma siamo costretti ahimè a vendere dei fabbricati in proprietà al comune e oltretutto penso anche a rieffettuare un accertamento sull'Imo e la Tari sperando di non dover toccare nessuna aliquota insomma dovranno contribuire anche anche i cittadini speriamo di no questa è l'ultima cosa che vogliamo fare non entrare nelle tasche dei cittadini visto che il momento già è di per sé gravoso i fabbricati sono utilizzati oppure i fabbricati in parte sono utilizzabili in parte sono in via di ristrutturazione per il sisma abbiamo la scuola di casanova probabilmente previo accettazione da parte la corte dei conti di questo piano e il centro servizi di padula e la ex caserma forestale di cortino dove ci sono quattro appartamenti che vanno andando ristrutturati in generale ci sono altre problematiche in in comune che magari vogliamo sottolineare problematiche quelle diciamo di ogni giorno amministrative sperando che non arrivano altri regali di questa portata